Luca Tacchetto ha una barba dalla foggia molto islamica, la sua fidanzata Edith Bley porta i capelli con le extension ma quel che conta è che stanno bene, liberi e anche sereni, ora che sono all'interno della missione delle Nazioni Unite MINUSMA nello stato del Mali, Africa occidentale. Emoziona a rivederli vivi e in buone condizioni in un luogo protetto. Luca e Edith erano stati rapiti nel dicembre 2018 in Burkina Faso, stavano andando in Mali in auto provenienti da Vigonza, comune della cintura urbana di Padova, del quale il padre di Luca Tacchetto fu sindaco dal 2007 al 2017. A Vigonza la gioia è immensa ma non si può manifestare all'esterno, però... Alle 15.30 tutte le campane delle sette frazioni hanno suonato a festa, in un grande momento di gioia, di festeggiamento virtuale naturalmente attraverso le campane che spero si siano uniti tutti quanti i cittadini di Vigonza all'interno delle proprie case. Mentre la famiglia Tacchetto è inavvicinabile, è un grande sollievo per tutti i vigontini e non solo sapere di poter riabbracciare prossimamente il 28enne Luca, architetto, che era diretto in Mali con Edith per la realizzazione di un centro sanitario per disabili. La notizia del loro ritorno a casa è una luce in questo fosco periodo di brutte notizie. Quindi io dico e cerco di lanciare attraverso Luca, Luca può costituire una nostra speranza. Questa sera alle ore 8 su tutti i balconi di tutta Vigonza, di tutto il Veneto, ma di tutta quanta l'Italia accendiamo una candela e diamo un segno tangibile che siamo tutti insieme. Luca costituisce la nostra speranza per uscire da questo momento difficile.